Io sono di passaporto italiano, tre generazioni in Tunisia, le mie origini sono vicino a Palermo, l'isola delle femmine, l'isola delle femmine, e la mia cultura è francese, ma io trovo che non dovrebbero morire, infatti mi ricordo quando, credo che sia stato Mitero, perché che mi infracciano la passata di Legione Dolina, e che mi ha detto che ero proprio multiculturale. Sì, ma la cosa buffa è che durante i film che abbiamo girato in Spagna, perché i western si cacevano lì, c'erano tutti i paparazzi convinti che ci saremmo ammazzati, e invece no. Neanche per finzione? No, per finzione sì, un sacco di volte. Dopo il film Commedia ho fatto un film a Istanbul, ho fatto un film per una partecipazione, a Casalambia con l'Ivo Agassiale, se c'ho altri film, uno a New York e l'altro in Spagna, ma quello lì non lo so se si fa, non ho capito perché è stato. Ma io, cioè, voglio dire, mi ha detto che progetti dall'estero che dall'Italia. Vabbè, non lo so perché, forse si preoccupano perché appena mettono la macchina a ripresa e capisco tutto. Grazie! Ciao! Ciao!